Duro botta e risposta tra Elodie e gli esponenti di Fratelli d'Italia, che accusano la cantante romana di volersi improvvisare politico mentre posa dal set di Miami per il calendario Pirelli. La 34enne è infatti tra i 12 artisti scelti per il nuovo calendario della multinazionale che quest'anno ha scelto il tema della sensualità. In una lunga intervista a Repubblica Elodie ha parlato di diritti in pericolo nell'Italia di Meloni. «La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo», ha affermato, rivendicando poi il proprio corpo come un manifesto di libertà. «Le insinuazioni di chi la accusa di usare la propria sensualità per raggiungere la fama non la preoccupano. Ci sono altri problemi», afferma. «Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato». Dalle fila di FDI è Susanna Donatella Campione, componente della commissione bicamerale sul femminicidio, a rilanciare, «è triste che una donna attacchi in modo così violento un'altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei. Prima della libertà del corpo Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue. Esca dall'equivoco di voler contrabandare l'esibizione del corpo come attività intellettuale», ha affondato Senatrice, e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare a un servizio fotografico per un'attività metafisica. Quanto alla mancanza di libertà delle donne la invito a guardarsi più attentamente intorno e a notare come proprio durante il governo Meloni le donne occupino posizioni di potere mai raggiunte prima, l'ultimo esempio di una lunga serie è Daria Perrotta. Prima donna nella storia d'Italia a essere stata nominata giorni fa capo della ragioneria generale dello Stato. Se Elodie vuole far parlare il suo corpo per esprimersi liberissima di farlo ma per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati.